Ciao a tutti e a tutte! Allora, questo è il nostro video presentazione del nostro canale Gimnastic Show. Allora, il nostro canale parlerà di... Olicinsu! E c'è di... Di ginastica artistica... Beh... Cover... Tag... Cioè, tutti i tag, cioè con le mie cover, cosa c'è nel mio telefono... Tutti i tag! Cos'è nel mio zaino, come si suona un violino... Allora, come si suona il violino, no perché io odio il violino. Vedete... Cuttica! Ok, poi cosa uso? Come... Prodotto per... Per i miei mani? Non è vero un'italonata. Allora, aveva, guarda come l'ava! Carinero! E vabbè questo è il nostro canale e... Iscrivetevi! Ciao! No?